Ancora un caso controverso nella sanità retina. Una donna di 47 anni è morta nella notte dopo una giornata al pronto soccorso del San Donato di Arezzo. I familiari hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica mentre l'azienda sanitaria ha avviato un'inchiesta interna. Il cognato Angelo Rossi, consigliere comunale di Oraghinelli, aveva già affidato a Facebook lo sfogo dopo la drammatica perdita. Non voglio gettare la croce addosso a nessuno, si legge nel suo profilo e provo profondo rispetto per chi opera la professione medica, comprendo anche che era una diagnosi molto difficile ma le conseguenze sono irreparabili. Spero, ha aggiunto sentito dalla nostra redazione, che la magistratura faccia il suo dovere. Nella nota stampa dell'ASL Toscana Sud-Est si riporta che la donna si era presentata ieri mattina a 2 febbraio al pronto soccorso per dolore addominale ed è deceduta alle 3 e 10 nella notte tra giovedì e venerdì. L'azienda ha subito dato indicazione, si legge ancora, di raccogliere la documentazione al fine di analizzare il percorso con i professionisti coinvolti, così da far luce sulle cause del decesso e a tale scopo è stato richiesto l'accertamento diagnostico sulla SALMA. In attesa degli esiti dell'accertamento, l'azienda si stringe vicino ai familiari e porge le proprie condoglianze per la perdita della cara.